Un momento di riflessione sulla condizione dei migranti dal titolo Tra Cielo e Mare, un lavoro didattico che ha visto coinvolti più di 300 alunni distribuiti nei palessi di via Caviaga, via Salonicco, via Pandino e via Genova. Gli alunni del comprensivo Giovanni Verga hanno riflettuto sul significato della vita umana per comprendere e sollecitare un impegno collettivo per contrastare efficacemente chi osa strumentalizzare il dramma. Appuntamento questa mattina al parco di Montelungo a Gela. Presente il Vescovo della Diocesi di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana. In questo momento stiamo vivendo un processo esodale, direi abbastanza massiccio e anche complesso, ma credo perché la nostra condizione, soprattutto di credenti, ma direi di uomini e donne, dovremmo cominciare seriamente a guardare l'altro nella condizione della fratellanza. Questo è iscritto ovviamente anche in una dimensione, direi, genetica. Noi tutti proveniamo da Adam e quindi credo che dovremmo cominciare a coltivare sotto forma educativa questo senso di apertura, doverosissimo, perché significa risalire alle radici della nostra identità umana. Nei pressi della foccia del torrente Gattano, punto nevralgico del parco di Montelungo, dove il mare si incontra con il cielo, gli alunni hanno vestito una flotta di barche di carta per ricordare i resti dei barconi approdati sulle nostre coste. Abbiamo trasmesso ai bambini un messaggio di amore, di accoglienza, proprio di riflessione sulla base anche di racconti promossi dall'Unicef. La giornata è anche dedicata e inserita nel programma della settimana dei ragazzi, dove i protagonisti sono i ragazzi, ma i protagonisti sono anche le difese dei diritti di questi bambini. Non a caso abbiamo invitato e ringrazio per aver accolto l'invito ed essere qui presenti con tutti noi, la comunità dei minori, io come tu. Siamo contenti perché ancora una volta viviamo il territorio, siamo contenti perché i bambini sono tutti presenti, insieme ai loro genitori e alle loro famiglie. Si parte dal seme, soltanto così le nostre piante potranno un domani fortificarsi ed essere pronti ad accogliere il diverso, che diverso non è.